Bentornato e benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano caro osservatore del cielo. In questo video vedremo brevemente uno dei crateri più grandi di Venere e sorvoleremo da vicino Giove. Oggi è venerdì 10 aprile 2020, quinto giorno della quindicesima settimana, centunesimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.949. Oggi il sole passerà al meridiano alle 13.15 e tramonterà alle 19.53, dopo averci dato luce e calore per 13 ore e 15 minuti. Quando il sole avrà attraversato la linea immaginaria che separa la Terra dal cielo, il crepuscolo ha inizio e le sue luci cangianti piano piano colorano di blu la volta celeste e lasciano finalmente scorgere le stelle. Tra i primi astri della sera vedremo, come sempre, la brillante Venere, in direzione ovest. Venere è il pianeta più caldo del sistema solare, dove si raggiungono temperature di 460 gradi centigradi. Questo suo primato non è dovuto alla vicinanza al sole, piuttosto alla sua atmosfera, molto densa e composta da gas che generano un effetto serra planetario. Un'atmosfera impenetrabile ai normali telescopi, ma che possiamo esplorare grazie ai radar, come quelle della sonda spaziale Magellano. Ecco un esempio. Questo è il cratere Isabella, che ha un diametro di 175 chilometri ed è il secondo cratere da impatto più grande del pianeta e mostra estese colate di fluidi attorno ad esso, una caratteristica unica per i crateri da impatto, almeno su Venere. Guardando con attenzione la colata in direzione sud-ovest si può notare la complessa rete di canali e lobi. Queste colate si sono formate probabilmente dalla fusione delle rocce della crosta venusiana, a causa dell'elevato calore rilasciato dall'impatto di un gigantesco meteorite. La notte astronomica comincerà alle 21 e 38. Mezz'ora dopo, verso le 22, se avete una finestra che affaccia verso ovest, potrete osservare Venere, più bassa sull'orizzonte rispetto al tramonto. e nei suoi paraggi le stelle dell'esagono invernale, prossime anche loro a tramontare. Queste sono le ultime settimane in cui potremo osservare questo grande e possente asterismo. Aldebaran si trova a sinistra di Venere, nella costellazione del Toro, vicino alle Iadi. Più in alto, a destra, c'è Cappella, nella costellazione dell'Auriga. A seguire poi c'è Polluce, nei Gemelli, Procione, nel cane minore, la splendente Sirio, nel cane maggiore, e infine Rigel, nella costellazione di Orione. Stasera la Luna, nella fase gibbosa-calante, sorgerà le 23 e 5 minuti nella costellazione della Bilancia, a confine con quella dello Scorpione, e passerà al Meridiano alle 4 e 2 minuti, illuminato all'87,4%, quando sarà già nella costellazione dello Scorpione. Domani, la notte astronomica finirà alle 4 e 52, e come sempre, tre quarti d'ora prima che il Sole sorga, se guardiamo in direzione sud-est, possiamo vedere Giove, Saturno e Marte. Visto da vicino, Giove è un pianeta bellissimo, la sua struttura più appariscente è la grande macchia rossa, visibile anche da Terra con un telescopio. Questa gigantesca tempesta turbina ininterrottamente nell'atmosfera del gigante da alcuni secoli. Ma non finisce qui, perché l'alta atmosfera di Giove è ricoperta da nubi che si muovono seguendo correnti su scala planetaria, facilmente identificabili dalle bande di colore differente. Juno è il satellite che in questi anni sta studiando e che sta scattando immagini favolose di questo pianeta. Il Sole sorgerà alle 6 e 37, mentre la Luna domani tramonterà alle 8 e 52. Io sono Luca, vi ringrazio per aver guardato questo video e come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.